L'operazione di fuoricentro viene effettuata ruota per ruota. Al programma di fuoricentro si accede direttamente dal pannello di comando della macchina. La ruota in esame viene sollevata. Per un più facile utilizzo la valvola viene posizionata ad ore 12. Da questa posizione inizia l'operazione vera e propria di fuoricentro. La posizione di partenza viene memorizzata. Quindi si porta la ruota ad ore 3. L'operatore deve porre molta attenzione a non far oscillare il peso. Questa nuova posizione viene quindi memorizzata. La ruota viene adesso portata ad ore 6. La memorizzazione viene effettuata sul pannello oppure con un pratico telecomando disponibile su richiesta. La ruota viene adesso portata ad ore 9. Viene memorizzato anche questo dato. Infine l'operazione di fuoricentro viene terminata portando la valvola ad ore 12. Cioè alla posizione di partenza. La ruota viene adesso portando la valvola ad ore 12.